Le grandi salite alpino e i percorsi dolomitici più o meno li conosciamo. Noi abbiamo deciso di regalarvi qualcosa di nuovo. Da fine maggio Marco Saligari, il nostro commissario, ci aiuterà a scoprire percorsi magari meno gettonati. Salite tracciati perfetti per allenarsi a due passi dalla grande città. Vi porteremo tanto per iniziare nella zona di Lecco, Erbe e del Lago di Como, analizzando ascese comunque apprezzate dai ciclisti come il passo del Ghisallo, il Muro di Sormano o il passo Agueglio. Ricognizioni vere e proprie con consigli tecnici, dati, statistiche, insidie, ma anche punti panoramici dove soffermarsi per una foto o semplicemente per rifocillarsi fra uno strappo e l'altro. Ad ogni giro Bike Channel abbinerà un grado di difficoltà, ma ne potrete trovare per tutti i gusti, da pedalate abbordabili quasi per tutti sui 70 km, ad anelli più impegnativi e anche oltre i 100 km. Un modo nuovo e diverso per regalare qualcosa di più vicino alle migliaia di cicolamatori che ogni weekend, e non solo, vediamo e ammiriamo sulle strade del nostro paese. Marco Saligari, dall'alto della sua esperienza, vi saprà contagiare con il suo entusiasmo e i suoi racconti le ricognizioni del commissario da fine maggio, solo su Bike Channel. Ciao! 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 Grazie a tutti.